Sono molti i modi con i quali i ragazzi vengono portati fuori dalla scuola o la scuola viene portata fuori dai ragazzi. Uno di questi è l'evento di oggi. Sì, un evento che vede protagonisti ragazzi che si sono inventati fin dall'anno scorso al mercatino circolare. Grazie alla disponibilità della dottoressa Croce abbiamo potuto fare un'assemblea che è piaciuta a tutti anche molto fuori dai confini territoriali. Ai ragazzi bisogna parlare un linguaggio nuovo e il mercatino di oggi è la dimostrazione. Ci sono piaciuti tantissimo i ragazzi ieri perché in occasione dei pitch sono stati capaci di sondare e di richiedere risposte precise dagli interlocutori. dagli interlocutori sono arrivati messaggi importanti quali l'etica del commercio e degli scambi. Quindi due giornate meravigliose. In tutto questo si inserisce un suo comunicato di poche ore fa nel quale si evidenzia relativamente all'utilizzo di piazza Nasiria come capolinea degli autobus di AMT la location privilegiata dal comune. Ci sono state delle perplessità che lei ha espresso? Sì, compito di un dirigente scolastico fra i tanti oltre ad occuparsi della didattica e di queste bellissime iniziative è anche quello di preservare la sicurezza degli studenti, del personale docente data. Su piazza Caduti di Nasiria gravitano molti studenti, c'è un movimento continuo. Noi ci spostiamo perché purtroppo non abbiamo palestre. Per cui abbiamo espresso delle perplessità, abbiamo richiesto un incontro al sindaco. L'11 settembre è ottenuto nella stessa mattinata l'appuntamento. Ci è stato spiegato che non siamo stati considerati interlocutori perché attendevano di avere il progetto approvato, cosa che è avvenuta il giorno precedente all'appuntamento di ieri, cioè il 14. Abbiamo espresso il nostro dispiacere per non essere stati sentiti prima, ma è anche vero che nell'occasione di ieri abbiamo potuto mettere sul tavolo, io non ero sola perché la scuola davvero in questo caso aveva bisogno di tutte le voci, la Presidente del Consiglio d'Istituto che rappresenta i genitori, tre docenti, Audano, Poggiali e Cecchin, che rappresentano tutti i docenti. Ci siamo fatti promotori, i docenti mi hanno fatto recapitare una lettera sottoscritta da oltre 100 persone. Le perplessità, come dicevo prima, sono state esposte pubblicamente nella riunione, abbiamo ricevuto delle risposte e attendiamo la coerenza rispetto a quelle risposte. I toni sono stati molto cordiali e quindi siamo assolutamente fiduciosi. Quindi c'è ancora qualcosa in fase di osservazione? Sì, ci hanno anche detto e l'abbiamo pubblicato nel nostro comunicato stampa che qualora riscontrassimo criticità potrà essere rivisto il progetto e l'abbiamo ritenuta un'apertura verso la scuola. Quindi eravamo stati tenuti fuori dall'aula ma adesso ci sentiamo pienamente legittimati ad esprimerci e abbiamo voce in capitolo, come si diceva una volta. Che anno sarà quello al quale sta andando a mettere mano? Tolte le preoccupazioni sulla questione di cui abbiamo appena parlato, un anno ricchissimo perché finalmente abbiamo raggiunto grandi obiettivi dal punto di vista dell'organizzazione. La nostra scuola è davvero plurale, tutti parlano, io non mi sento mai sola e lo dimostrano tutte le occasioni in cui parliamo al plurale ma non per un atteggiamento, proprio perché io non sono sola e ogni docente non è solo. Ci teniamo esattamente come incordata perché tutti sappiamo che l'uno con l'altro possiamo fare la differenza. Con troppa presunzione, non lo so, ma dico che noi, Marconi del Pino, la differenza la facciamo.